Prego. Ciao, buongiorno. This is your seat. So che parli italiano. Un pochino, ci proverò. Ok, va bene. Sì, abbiamo iniziato questa storia durante la pandemia, quindi il mondo era diverso e loro ci hanno chiesto di continuare la storia di Vaiana come una serie. Ma come un registra, per me non importava che fosse una serie. Io ho lavorato sul primo film e per me una parte del mio ritaggio viene da Samoa e per me ogni giorno era un regalo. E quando penso della storia penso di una cosa che vive. Dobbiamo ascoltare cosa la storia vuole. E nello studio di Walt Disney guardavamo il film sullo schermo e tutti noi insieme hanno detto questo bisogno di essere sullo gran schermo come il primo capitolo. Sono molto grato che Bob Iger era d'accordo e adesso è nello cinema. Nel primo film avevamo un cultural trust che c'erano le persone che sono experts. Come si dice experts? Esperti. Esperti. Esperti da tutte le isole dell'Oceania. Per la lingua, per le storie, anche per i tatuaggi che vediamo. E io e anche Dana Miller abbiamo un ritaggio di Samoa. Per me è personale. ma non volevamo usare le storie attuali. Noi siamo ispirati da tutte le storie. La natura nel mondo di Vaiana è vivente e non c'è separazione. E per me, e quello è molto molto importante, ma tutti i nomi e anche i riti che vedi nello film vengono dalla regione. Per me c'è un rito, si dice? Un rito molto importante. Quando il padre di Vaiana si chiama Ava e sembra come un acqua, ma viene da una pianta molto importante. E quello è un rito di dare un titolo molto importante dal villaggio. E quello viene dallo Samoa. Ho risposto alla domanda, non lo so. Io direi, va bene? L'ho fatto? Va bene, sì. Va bene. Ok, grazie. Ai, ai, ai. Mattangi è un semidio come Maui e è ispirato dalle storie ma non direttamente del Pacifico. C'erano tante cose che volevano introdurre, 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 nel mondo di Vaiana. E quello erano anche gli animali. Con Mattangi lei ha i pipistrelli della frutta. E sono gigante. E vengono dallo Samoa e Tonga. E anche Mattangi ha un siapo, si dice in Samoano. Ma lei è nello film di insegnare a Moana le cose che non sa già. Come un navigatore, Vaiana pensa che deve sapere la direzione di andare. Nel primo capitolo, trovare Maui. Maui ci porterà a Te Ka. Ma adesso lei deve trovare cieli nuovi che lei non ha mai vista. E la canzone è divertente, è incredibile. Ma ci insegna di trovare nuovi luoghi. Bisogna di perdersi. E' una lezione nuova per Vaiana. Ma una lezione per noi, che noi ci abbiamo imparato dal Ninoa Thompson. E lui è un navigatore adesso, per la Polynesian Voyaging Society. E lui ci ha detto, di trovare la magia, bisogna essere di diventate perduto. Abbiamo lavorato per quattro anni per questo film. Adesso voglio che tutti andiamo al cinema, di vederlo. Chissà che sarà. Sono molto grato di avere l'opportunità di continuare la storia di Vaiana. Per me, come per tutti voi, è molto personale. La soralina viene dalla mia vita. La mia figlia maggiore, si chiama Simea. E lei ha 21 anni adesso. E è il più piccolo figlio. E Quentin. E lui ha solo sette anni. E come ho detto all'inizio, quando abbiamo cominciato a creare la storia, era durante la pandemia. E la famiglia era insieme. Tutta in casa. E loro, nonostante la grande differenza di età, erano sempre insieme. Facevano tutte le cose insieme. Leggevano, facevano campaggio. E c'era un giorno molto difficile, straziante, quando Simea doveva andare all'università. Quentin, il mio figlio più piccolo, ha detto a Simea, quando vivremo insieme di nuovo? E era un momento che a me, come il padre, ha mostrato come i miei figli dovevano crescere. E per la mia figlia, Simea, doveva diventare una donna, come diceva. Ma per Vaiana, di avere Simea come sorellina, mostra a noi l'importanza della famiglia e l'importanza del futuro per Vaiana e per il tuo popolo. La cosa che mi piace di più di Vaiana e tutte le cose che lei fa, è per gli altri. Lei ha detto, con i momenti fa, che è l'empatia. Quello è, come si dice, super power. Il potere di Vaiana è l'empatia. Grazie, sono parlato... No, no. Ma di... io spero che potremo continuare la storia di Vaiana, ma adesso non so. Intanto andiamo al cinema. Sì, andiamo al cinema. Vediamo questo. Grazie. Io vi ringrazio, vi ricordo appunto che il film esce il 27. Grazie mille per essere stati qui con noi oggi.